Da 70 anni il castello cinquecentesco di Scoppito è la sua casa, da quando cioè i suoi resti sono emersi da una cava durante dei lavori per la ricerca d'acqua. Parliamo del mammut meglio conservato d'Europa, rinvenuto esattamente 70 anni fa, il 25 marzo 1954, nella fornace Santarelli a Madonna della Strada, frazione del piccolo comune marsicano. Nascosto nel banco di sabbia e immediatamente sottostante alle argille, a meno di un metro di profondità, l'incredibile scoperta. In realtà le prime segnalazioni di resti fossili del gigante preistorico risalgono all'Ottocento e riportano i rinvenimenti a pagliare di sassa nelle vicinanze della chiesa di San Pietro, ma il sito di Madonna della Strada resta il giacimento più importante. Quella scoperta eccezionale fu documentata con foto, pubblicazioni e video. Il 31 marzo dello stesso anno l'Istituto Luce realizzò un documentario dal titolo uscito dalla preistoria. A gennaio il Munda ha acquistato una rilevante documentazione parzialmente inedita sul ritrovamento del fossile. Le eredi dell'ingegnere Mario Santarelli, Cecilia ed Eugenia, proprietarie della cava attiva fino agli anni 70, hanno donato 23 foto originali scattate nel momento della scoperta. Per il settantesimo anniversario Scopitto celebra il suo mammut, dedicandogli una giornata intera con incontri nelle scuole e una tavola rotonda.